si 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 va bene tanto come no qua è lo scavacchio e salti giù se non li vai a finirne la rongia cavoli quella rongia lì dobbiamo pulirla qua anche qua dobbiamo pulirla tutta qua qua no di qua c'è il buco no c'è il buco vai piano ma sei fuori Michele lo fa se non glielo dici arrivi su qua salta giù e basta aspettavo una pianura pianeggente ciao puoi farlo anche dai ci sta se lo alzi un pelino e questo è da pirati dei caraibi no da pirati e basta guarda guarda va la tua sinistra quando si va ha paura diungare quella non è la pirachi però arrivo qua devi arrivare lungo lungo bravo 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 Questa è l'unica cosa che vuoi con qui sopra. No, come lo si vuole per forza. Vedi, arriva su e ferma. Poi diamo un po' lungo. No, se arrivi lungo poi si può aggiungere una rongiata insieme. Sbaglia dai, ti dai un attacco solo. Quando arrivi a metà devi già partire ancora col secondo perché se no arrivi su più. Ma sei in seconda. Secondo me anche in terza. L'unico problema è arrivare a coppare e poi dopo la scarici giù un bellino lento. Perché se ne dai troppo rischi di arrivare troppo lungo. Se devi lungo vai finire una rongiata in fondo. Non ci voglio fare il banno, non lo costumo. Perché devi pelare via la forcella e anche la pedivella. Va, 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 va. C'ero quasi. Oh, hai visto? Cosa vi perdete qua dietro? Cosa ti perdete? Non hai visto che versi che ha fatto qua sotto? Occhio a Michele. Michele, prendi Michele. Michele Luzzo! Non buttarmi giù a me perché mi ammazzo qua. Quando hai fatto il sassolo? No, non ce la fanno. Quando il sassolo si ammazzano. Vieni qua dietro di noi. Vieni qua dietro di noi. Oh! Occhio che questo è la che vi dà forte. La radice! Ma lo prendo. Non devi prendere il sassolo. Dai, Lele. Fagli vedere, Lele. Fagli vedere. Il sassolo lo guarda nessuno. No, no. Perché hai paura di capozzare il sassolo. Hai capito? Ne hanno già fatti due o tre. Ma nemmeno lo faccio qua. Adesso vediamo. Oh, così è già meglio. E perché arrivano lanciati. Sì, non si fermano. È per quello che stavo cercando di fare. È per quello che stavo cercando di fare.